Ora abbiamo da ridere con queste immagini perché come possono reagire due tranquilli pescatori svedesi quando si vedono scorrazzare due Peugeot 208 Rally Cross con Timmy Hansen e Sébastien Loeb alla guida? È un video molto simpatico che è il video di presentazione del Peugeot Tim Hansen che sarà impegnato durante quest'anno nel Mondiale Rally Cross. Vediamo. Dopo aver conquistato lo scorso anno il titolo iridato a squadre, le Peugeot 208 WRX sono pronte ad iniziare il 16 e 17 aprile prossimo a Montalegre, in Portogallo la loro terza stagione nello spettacolare campionato del mondo FIA di Rally Cross. Campione del mondo squadre in carica, 11 podi tra cui 5 vittorie, il team Peugeot Hansen ha iscritto due Peugeot 208 WRX da 540 CV per Timmy Hansen, vice campione del mondo 2015 e per il nuovo arrivato il 9 volte campione del mondo rally Sébastien Loeb. Entrambi si sono divertiti nelle nevi nordiche, disturbando la tranquillità di due pescatori e sentite quello che hanno detto. So, proprio che cos'è Amore trodde va? Amore, uno, loeb ha già fatto con la rallycross. Amore, anche laulescovistia Amore Amore, l'immagine Amore Grazie.